Ed ecco la Maria Vittoria, ha fatto il riposino pomeridiano, si sveglia ed è sempre sorridente e Claudia le fa tante coccole e poi merendina. Sveglia dalla piccina, la piccina, cucù, cucù, buongiorno, ma quanti anni, quanti anni? Claudia le dà una bella merendina, yogurt con banana e Sue e lei lo mangia tutto, sempre bella, sorridente. Grazie. Grazie. Grazie.